Triste, principalmente triste per una comunità, per delle persone, per dei ragazzi che erano in Italia e non ci sono più e che comunque feriscono e non saranno mai più come prima. Mi sento in parte responsabile senza ovviamente colpe che toccano personalmente il coso, se non altro come amministrazione. Viviamo in un momento in cui ci sono soldi per fare tantissime cose e i nostri comuni vediamo che i trasferimenti sono sempre di meno e tante volte con qualche piccolo investimento in più si potrebbero mettere in sicurezza delle strade, non solo provinciali ma anche comunali e vicinali che avrebbero potuto fare la differenza nel segnalare questa curva che i ragazzi non hanno preso. Poi è vero che le forze dell'ordine stanno indagando per cui l'ultima parola ce l'avranno loro. Qualcuno ha pure pensato alla presenza di un animale salvatico che purtroppo sono molto numerosi e che quindi preso in curva magari ha potuto creare questa distrazione. L'incontrerò domani anche perché c'è tutta una burocrazia da svolgere per poter permettere la sepoltura in tempi anche brevi senza allungare questa sofferenza per cui io domani incontrerò tutti i familiari presso il cimitero di Cuneo. È una tragedia che coinvolge direi la provincia, che coinvolge il nostro paese, l'Italia insieme tutta perché di questi incidenti con i giovani ne sentiamo a tutti i momenti qualcuno. Posso dire una cosa, conoscevo personalmente questi ragazzi, le loro famiglie, posso dire che erano dei bravi ragazzi che non si davano ad eccessi, dispiace perché questa è una tragedia fatta, successa direi proprio sull'errore umano. Di questo per carità sono le forze dell'ordine che avranno l'ultima parola, però mi creda famiglie per bene ma soprattutto ragazzi per bene che non li ho mai visti in eccessi di nessun tipo. È una tragedia che con un po' di attenzione si poteva evitare e questo lo dico a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando e che mi possono vedere. È una tragedia che colpisce soprattutto chi rimane, i genitori, la grande sofferenza che rimane per cui dico attenzione. Sono un insegnante, tutti gli anni ho dei ragazzi davanti a me e sono fatti che prima o poi succedono anche tra i ragazzi della scuola. Dico sempre attenzione, fate molta attenzione per come viaggiate, per come vi muovete ma soprattutto pensando che avete dei genitori a casa che vi aspettano e che hanno il desiderio di vedervi felici e in salute. Mettere un messaggio penso che sia una parola triste da dare in questo momento. Ho sentito anche il parroco che li ha incontrati. Il messaggio è di avere forza e coraggio e parlo come sindaco che è un cattolico credente, praticante e che magari il buon Dio abbia avuto un disegno che a noi è imperscutabile ma spero che domani possiamo rincontrarci tutti quanti insieme.